L'ente Regione ha vari ambiti di competenza, certamente la sanità, se non il più importante, è comunque tra i più rilevanti. E allora parliamo della gestione sanitaria targata Emiliano, parliamo delle prospettive per il futuro in caso di rielezione del Governatore. Facciamo tutto questo con Michele Mazzarano, candidato al Consiglio regionale pugliese con il Partito Democratico. Lo sforzo non facile di questi anni sarà quello di costruire una sanità più razionale che tenesse anche conto delle linee guida e dei dettami ministeriali che sono stati imposti alle Regioni per rientrare dal debito in questi anni. Per questo c'è stato bisogno di creare un modello incentrato sulla integrazione tra ospedale e territorio. Questo modello si completerà quando Taranto avrà un nuovo grande presidio ospedaliero centrale. Dopo tanti anni di cambi di destinazione, di ricorsi, di contenziosi, siamo quasi all'evento della posa della prima pietra del San Cataldo, ospedale pubblico di Taranto che nascerà alle porte della città. Avrà 800 posti letto e sarà un monoblocco in grado di curare tutte le acuzie. Attorno a questo grande presidio ospedaliero centrale sta già nascendo una rete territoriale fatta di presidi territoriali di assistenza e di presidi post-acuzie che consentono il decongestionamento dei grandi plessi ospedalieri e consentono anche di assistere e curare i pazienti che non hanno bisogno del ricorso al ricovero. Per cui questo è un modello in cui il territorio, il distretto, il medico di base, i medici di base, gli infermieri di comunità, come sono stati definiti dal Ministero della Salute recentemente, rappresentano un modo per dare una continuità assistenziale ai pazienti. Questo modello è l'esatto contrario di quel modello che abbiamo visto implodere di fronte al Covid in Lombardia, fatto tutto di sanità privata, di cliniche private, senza ruoli del territorio e dei medici di base. Ecco, anche tenendo conto di questa novità, noi dobbiamo continuare ad insistere su questa strada e dire di no a coloro che chiedono i piccoli ospedali in ogni luogo. I cittadini hanno bisogno di sicurezza, le donne che partoriscono hanno bisogno di rianimazione, c'è bisogno di una filiera di sicurezza che possa far curare gli acuti negli ospedali medio-grandi e possa invece consentire la presa in carico dei tanti cittadini nelle strutture del territorio. E su questa strada abbiamo il dovere di andare avanti.